Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in città vecchia, a fianco a Palazzo di Città, a fianco alle colonne doriche. Tanta bellezza, tanta storia e tanta schifezza. Mi riferisco ai cassonetti che non vengono svuotati. Cassonetti a fianco alle colonne doriche. Signor sindaco, cosa si aspetta a rimuovere questi rifiuti? È mai possibile che non certamente tutti i giorni vengono svuotati i cassonetti? Lei cosa aspetta ad intervenire, sindaco Stefano? Ed è inutile che lei scarichi la colpa all'AMIU, perché l'AMIU certamente ha le sue grossissime responsabilità, ma i vertici dell'AMIU vengono nominati da lei, dalla sua amministrazione. Signor sindaco, immagini un po' che brutta immagine ricevono i turisti. Si faranno certamente una brutta idea della nostra città e non lo meritiamo, viste le tante bellezze. Le colonne doriche e i cassonetti non svuotati. Le colonne doriche e i rifiuti. Sindaco, ma stiamo parlando di cassonetti che stanno a 20 metri, a 30 metri dalla sua sede istituzionale. Ma lei quando scende da Palazzo di Città, scende col paraocchi? Non vede lo schifo che ci ha uscendo da Palazzo di Città sulla sua sinistra? Questa è l'amministrazione del nulla e questa è la prova provata, è l'ulteriore elemento che ci spinge a una riflessione ormai inconfutabile. Il sindaco di Taranto deve andare via dalla nostra città, si deve dimettere per il bene nostro, della nostra città e del turismo e anche per il bene di tanti studenti universitari che proprio qui a due passi frequentano l'università e stanno nello schifo, nello schifo, vergogna.